E' prevista alle 3 di questa notte la finale della staffetta femminile 4x400 in cui correrà anche l'aquilana Maria Enrica Spacca. Tutta la città è in fermento dopo che il quartetto azzurro ha centrato la finale alle Olimpiadi di Rio. Il quartetto composto oltre che da Enrica Spacca anche dalla Chigbolo, dalla Folorunzo e dalla Greno ha stabilito anche il record italiano assoluto con 3.25.16 cancellando il 3.25.71 del 1 agosto del 2010 agli europei di Barcellona. Quella di oggi sarà dunque una notte in sonne per rimanere attaccati ai televisori e gustare la finale olimpica dell'aquilana Maria Enrica Spacca.